Buonasera e bentrovati in apertura di questo telegiornale. Torniamo alla tragica esplosione di martedì scorso in via Garibaldi a Catania. È stato operato alla testa il caposquadra, rimasto ferito, stazionari. Invece le condizioni dell'altro pompiere il caposquadra non sa ancora di essere stato indagato. Sentiamo tutti i particolari nel servizio di Guenda Garozzo. Marcello Tavormine, il caposquadra, rimasto ferito martedì sera nell'esplosione che a Catania ha provocato tre morti e è stato operato alla testa. Aveva subito una frattura avallata della teca cranica a livello dell'osso parietale di destra con lacerazione della meninge. Per questa ragione l'equip dei neurochirurghi lo ha sottoposto a una craniotomia parietale destra, riparazione della meninge e riduzione della frattura. L'intervento, iniziato alle 11, si è concluso un quarto d'ora prima delle 13. Il vigile del fuoco ha superato l'intervento chirurgico che ha avuto un normale decorso post-operatorio. Stabili le condizioni dell'altro vigile del fuoco, Giuseppe Cannavò, interessato da un trauma polmonare. Nei prossimi giorni, fanno sapere dall'ospedale che ha diramato un bollettino medico, verrà nuovamente sottoposto ai trattamenti endoscopici di toilette polmonare. Tavormina non sa ancora di essere indagato. La procura non ha ancora disposto l'autopsia sulle salme delle tre vittime. I vigili del fuoco, Giorgio Grammatico e Dario Ambiamonte, ed il 75enne Giuseppe Longo, un atto irripetibile che non si può legalmente eseguire, senza che la sua esecuzione sia formalmente notificata all'indagato, che può nominare un legale ed un perito di parte. Per questo sono slittati i funerali. Ancora da chiarire da cosa sia partito l'innesco, l'esplosione avvenuta dall'interno. Lo stato di depressione dell'anziano, che in questi locali aggiustava biciclette, rappresenta uno degli elementi cardine in tutta questa storia e ad avvalorare l'ipotesi del suicidio. Adesso c'è anche la lettera ritrovata nel pensionato, dove l'uomo aveva pernottato sino alla fine settimana scorso. Parole di sconforto nella missiva che è stata acquisita dalla squadra mobile, dalle quali emerge il profondo senso di solitudine dell'uomo, che pare avesse anche problemi legati al suo lavoro. L'ongo scrive di essere stanco e aggiunge, se mi cercate mi troverete in via Sacchero. Su questa via aveva infatti un secondo ingresso la bottega dove l'anziano avrebbe poi pernottato successivamente fino al 20 marzo, quando il violento boato ha spezzato la vita di tre persone e sconvolto un'intera città. Ancora cronaca, pestarono per ucciderlo un quarantenne lo scorso mese di novembre a Giarra, arrestato dai carabinieri Salvatore e Nicotra e tre suoi presunti complici volevano eliminare la vittima e seppellirne il corpo in campagna. Sentiamo Mario Grasso. Fu una missione punitiva alla quale un gerrese di 40 anni scampò alla morte solo perché un componente del commando di tre persone che poco prima lo aveva rapito e malmenato nel centralissimo Corso Italia di Giarra, all'altezza di Piazza Arcoleo, consigliò di evitare e di inferire perché alcuni passanti avevano visto cosa fosse accaduto nel bel mezzo di una delle principali strade della città e questo avrebbe potuto portare alla identificazione dei responsabili. I carabinieri della compagnia di Giarra avrebbero fatto piena luce sulla brutale aggressione del 6 novembre scorso quando tre persone caricarono su un'autovettura un quarantenne del posto dopo averlo picchiato per portarlo al cospetto di Salvatore Nicotra, 61 anni, inteso Turi da Amacchia, già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso ritenuto referente del clan Laudani e, sempre secondo i carabinieri di Giarra, mandante dell'aggressione. Il Nicotra, dopo aver ordinato i tre complici incensurati già resi, il figlio di 35 anni e due impiegati in uno suo rifornimento di 21 e 20 anni di scavare una fossa per seppellire l'uomo in un agroisolato di macchia, avrebbe disposto l'esecuzione del quarantenne, tornando sui suoi passi perché convinto da uno degli aggressori alla cautela perché il rapimento era avvenuto in pieno giorno e davanti a più persone. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, l'uomo sarebbe stato punito per un furto ad un box delle macchinette da videopoker installate nel distributore di benzina. Dopo il pestaggio, l'uomo fu ritrovato in condizioni davvero precarie, pori traumi su tutto il corpo, fratture alle costole e lesioni interne ai polmoni che costrinsero i medici ad un doppio intervento chirurgico con l'asportazione di parte del polmone. In questi mesi i carabinieri della Porta Neligiale hanno concorso le indagini che hanno portato alla procura di Catania a ritenere il vicodro infandante nel pestaggio dei rinforzi cilise di bene. Adesso tutti accusati a bagno titolo di sequestrari per c'è un concorso, trattato a amicidio, un concorso, furto o strappo. Ancora cronaca, ci spostiamo in provincia di Ragusa per un'operazione antidroga della polizia, sgominata una banda di albanesi che si stava organizzando per la prossima estate. Comodorini per tutti, ma non dei dolci e profumati ortaggi pachinesi, si tratta bensì di cocaina, polvere bianca, che una banda di albanesi in codice chiamava come i rossi frutti della terra iblea da spacciare nel lungomare ragusano. La squadra mobile di Ragusa ha interrotto una lucrosissima attività di spaccio che la banda amministrava nelle zone balneari più importanti della provincia, Marina di Ragusa e Casuzze. Proprio dalla frazione Confronte sul Mediterraneo prende il nome l'operazione antidroga di polizia che ha dato esecuzione alle misure cautelari in carcere emesse dal GIP su richiesta del pubblico ministero Santo Fornasiera. La banda, di cui fa parte anche un cittadino italiano, è stato appurato, già in primavera cominciava ad esaltarsi perché, di lì a breve, la zona si sarebbe riempita di persone e quindi ci sarà il boom e si lavorerà bene, ascoltavano gli inquirenti nelle intercettazioni. Come attività di copertura, gli indagati se in tutto andavano a lavorare nelle serre di Santa Croce e Camerina, ma invece che con macchine di piccola cilindrata si recavano nella serra con costose berline. Una ostentazione costata cara perché proprio questa avrebbe messo sulla buona strada la squadra mobile della Polizia di Stato di Ragusa e gli agenti del commissariato di vittoria, osservazioni, pedinamenti, intercettazioni per mesi e mesi. Numerose le persone identificate mentre acquistavano la droga in un'officina meccanica di marina di Ragusa, così come gli assuntori che al minuto aspettavano i pusher nei locali della movida ragusana o sulle spiagge. Il giro di droga è stato definito dagli inquirenti importante. Ogni cassa, così dicevano gli spacciatori, contenente più dosi, veniva venduta infatti a 5 mila euro. Uno degli albanesi per anni ha abitato in Inghilterra e continuava a tenere collegamenti con la Germania, tanto che uno dei carichi di droga, secondo gli inquirenti, sarebbe stato spedito dal centro Europa da un albanese lì residente con destinazione Sicilia, Ragusa, Casuzze. In carcere sono finite tre persone, mentre due altri destinatari dei provvedimenti non risiedono più in Italia. Cambiamo argomento, visita informale stamani dell'ex procuratore generale di Catania, Salvatore Scalia, il municipio appunto della città dove è stato designato commissario straordinario l'ex magistrato. In attesa dell'insediamento ufficiale ha incontrato il vice sindaco Nando Ardita ed il segretario generale Mario Trombetta per un primo approccio alla macchina amministrativa. Si attende adesso la firma del presidente della regione siciliana Nello Musumeci, Scalia, state vedendo le foto, sostituirà nelle funzioni. Primo cittadino è giunta sino alle prossime elezioni amministrative. Adesso a Catania parliamo di cronaca sindacale, vertenza Cipi continua l'agitazione dei lavoratori. C'è stata stamani una manifestazione, una delegazione è stata ricevuta dal sindaco Bianco. Sentiamo Francesco Larosa. Fumata nera stamattina per l'avvertenza Cipi che si inesprisce ulteriormente CGL, Cisla UGL. Hanno proclamato lo sciopero per l'intera giornata, radunandosi per protestare in Piazza Duomo e nell'immediato futuro. Pare non ci siano prospettive positive. Emersa la indisponibilità della Cipi e della sua proprietà a ragionare e a discutere. Emersa la incapacità ad ascoltare le ragioni del sindacato e dei lavoratori. CGL, Cisla ed UGL sono fortemente preoccupati per questo comportamento della proprietà della Cipi, della famiglia Circo, che non capiscono più. Noi abbiamo chiesto una proroga di un mese della procedura per poter ragionare di tutto, di una cassa integrazione come anche di forme di autoimprenditorialità dei lavoratori. Abbiamo dimostrato massima apertura e ci siamo ritrovati con l'arroganza di una porta sbattuta in faccia. Leggiamo anche sui giornali locali falsità dette dalla proprietà. Siamo veramente preoccupati per questa disinformazione. Questa azienda e la sua proprietà stanno compiendo un atto sbagliato, imprenditorialmente discutibile. Stanno abbandonando un territorio che a loro ha dato moltissimo. Abbiamo quindi un comportamento predatorio e non da imprenditori seri. Chiediamo alla famiglia Circo, alla Cipi di ripensare i suoi comportamenti. Chiediamo a Confindustria di fare una mediazione vera. Nel frattempo abbiamo appreso dal sindaco Bianco, che è l'unica di autorità che ci è stata accanto e che è sceso insieme al prefetto chiaramente, che è sceso oggi qui con noi il sindaco. Abbiamo appreso da lui che il Ministero del Lavoro si attiverà per convocarci perché a questo punto bisogna parlare di ammortizzatori sociali. La situazione è veramente preoccupante. Sin da oggi potrebbero arrivare le lettere di licenziamento. Tutto questo non ha senso perché questa è un'azienda sana che non può rispondere in questo modo a un piccolo calo di produttività. Così non funziona, così è inaccettabile. Restiamo nel capoluogo etneo dove è stato riconsegnato alla città il bastione degli infetti. Il sito di via Torre del Vescovo è stato riqualificato. Un importante sito nel cuore del centro storico di Catania rivede la luce dopo un significativo lavoro di riqualificazione. Stamattina in via Torre del Vescovo il sindaco di Catania Enzo Bianco ha consegnato alle città lo spazio del bastione degli infetti al termine dell'intervento di rifacimento della struttura storico-architettonica del verde e dell'illuminazione. Oltre ad alcuni rappresentanti dell'aggiunta, presenti anche gli esponenti del Comitato Popolare Antico Corso e del Club Chivanese Catania Est, a quale la struttura potrebbe essere affidata per un'ulteriore valorizzazione con degli spettacoli da tenere nel periodo estivo. Sì, guardi, questa idea è nata da un'associazione della società civile, il Comitato Antico Corso, qualche anno fa. Un anno fa abbiamo avuto dei finanziamenti di democrazia partecipata, quindi in collaborazione con l'opinione pubblica e coloro i quali vivono in questo quartiere. In un tempo ragionevole è stato realizzato, molto bene, con una buona collaborazione tra comune e sovrintendenza, che ringrazio di cuore. Oggi è diventato uno spazio vivibile che ha un particolare valore. Queste sono le mura di Carlo V e oggi diventa un luogo di incontro, ma anche di vita della città. E la mia idea è quella di affidarne la gestione non alla struttura comunale stessa, ma a un comitato di cittadini e perché no, se lo vorranno, anche proprio al Comitato Antico Corso a cui va il merito di aver lanciato questa proposta. La possibilità anche di realizzare quelli degli spettacoli all'aperto? Sì, questo posto deve vivere. Io mi immagino che non sia un posto in cui soltanto i turisti vengono a visitarlo. Mi immagino che qui ci possono essere dei piccoli concerti di musica da camera, serali, ci possono essere degli spettacoli teatrali, perché no, anche in dialetto siciliano, in modo da dare un contributo alla vita di questo pezzo della città che è bellissimo, ma che è ancora una condizione di degrado. Nell'ultimo mese e mezzo a Catania i vigili urbani hanno elevato 300 multe per conferimento irregolare dei rifiuti destinatari delle sanzioni. Fa sapere il Comune, sono per la maggior parte residenti nell'Interland che gettano i loro sacchetti della spazzatura nei cassonetti di Catania o li abbandonano per le stradi. 16 le telecamere di videosorveglianza sparse nel territorio che hanno consentito di immortalare le irregolarità. Parliamo adesso dell'aeroporto Fontana Rossa, previsti per l'ormai prossima festa di Pasqua, 205 mila passeggeri in transito, ma intanto si pensa anche alla prossima stagione estiva. L'aeroporto internazionale di Fontana Rossa è in continua espansione. Stamattina i vertici dell'aeroscalo catanese hanno annunciato le previsioni di traffico nell'imminente periodo pasquale, illustrando nel dettaglio anche il nuovo sistema di gestione dei parcheggi. Finalizzato a migliorare i servizi agli utenti aeroportuali, passeggeri e visitatori in transito con mezzi privati. Un sistema che velocizzerà le procedure di ingresso a pagamento e uscita dalle aree di parcheggio SAC. Da fine aprile inoltre sarà disponibile anche il servizio telepass per l'accesso alle aree per il pagamento telematico della sosta. Sì, le novità sono essenzialmente due. Uno è questo del miglioramento del mix qualitativo dei voli nazionali versus quelli internazionali. Stiamo cercando di migliorare e di incrementare la quota dei voli internazionali perché riteniamo che questo possa rappresentare un maggiore moltiplicatore sul territorio. La seconda è quella dei parcheggi, attualmente, oggi, cioè direi quello di andare a incrementare i ricavi cosiddetti non aviation, che rappresenta una componente fondamentale in un bilancio di esercizio. Nella programmazione dell'attuale consiglio d'amministrazione della SAC, anche la riqualificazione della stazione Morandi e, in prospettiva, la realizzazione della seconda pista d'atterraggio. Da voi, del nuovo terminal C, saranno comunque completati entro l'estate, esattamente in linea con i tempi che ci eravamo dati. Quindi speriamo di poter dare, ripeto, un servizio non soltanto quantitativamente più ampio, ma soprattutto migliore in termini qualitativi. In prospettiva anche la riqualificazione della stazione Morandi e la realizzazione di una seconda pista. La Morandi è una cosa su cui stiamo lavorando e che prevediamo possa essere completata, speriamo, entro la fine del 2020, così come da programma. La seconda pista è un tema sul quale siamo prontissimi, ma ricordo a tutti che non dipende da noi. È una cosa che dipende dallo Stato e dipende dal RFI. Perché? Perché noi la si possa realizzare prima, si dovranno fare proprio idioticamente dei lavori e fra questi, prima fra tutti, l'interramento famoso della ferrovia. Una volta che non noi, ma altri, faranno ciò che devono, noi ci faremo trovare pronti perché per noi sarà un passaggio strategicamente determinante per la crescita sostanziale, proprio un salto completamente qualitativo in avanti per l'aeroporto. A Gavina di Catania sono stati aggiudicati i lavori di collegamento del quartiere San Paolo con il canale di Gronda di Catania. L'intervento, che costerà 350 mila euro di fondi comunali già impegnati da tempo, consentirà di risolvere la nostra questione del deflusso delle acque piovane e impedirà così gli allagamenti che purtroppo si verificano nel quartiere gravinese in occasione di eventi atmosferici eccezionali. Adesso a Mascali, redatto dal Comune, un progetto di inclusione socio-lavorativa coinvolti 35 cittadini disoccupati. Sentiamo Guenda Garozzo. Sono complessivamente 35, i primi 15 sono in servizio già dallo scorso mese di febbraio e vi rimarranno sino al 30 marzo i soggetti a rischio e marginazione sociale coinvolti nel progetto di inclusione lavorativa in caso di disagio socio-economico. Ad attivarlo l'amministrazione comunale di Mascali, assessorato ai servizi sociali, che conta di riproporlo per dare la possibilità di parteciparvi anche ad altri soggetti che ne hanno bisogno, che vivono cioè in condizioni poco agiate. Un impegno a favore della collettività, con mansioni nel settore ambiente, tutela del verde pubblico, pulizie edifici e attività di supporto agli uffici comunali nei servizi scolastici. Insieme alla dottoressa Silvestro e alla dottoressa Belfiore, che è responsabile del servizio, stiamo portando avanti questo progetto che ad oggi ha dato un ottimo risultato perché sono state impiegate oltre 30 persone, che con un servizio che danno al comune di 16 ore settimanali riusciamo a garantire dei servizi che prima venivano garantiti attraverso appalti esterni, mentre così riusciamo ad aiutare delle famiglie un pochino più bisognose e dignitosamente gli viene dato una forma di contributo. Vogliamo continuare con i fondi che erano previsti per altri servizi, utilizzando questo personale e dando continuità al servizio. La primavera è entrata ormai da qualche giorno, anche se meteorologicamente non sembra così, e ritorna puntuale l'appuntamento con le giornate del FAI ad Acireale, visite guidate anche al centro di ricerca per l'agrumicoltura. Salvo Couturi. Il centro di ricerca dell'agrumicoltura e le culture mediterranee di Corso Savoia ad Acireale apre i propri laboratori degli attivi al FAI, il Fondo Ambientale Italiano, in occasione delle giornate di sensibilizzazione alla salvaguardia del patrimonio artistico e culturale italiano, quest'anno con un importante appendice anche nel comparto agrumicolo. I padiglioni delle CREA ospiteranno gli studenti delle scuole cittadine, debitamente preparati che per due giorni illustreranno ai visitatori le produzioni in loco e l'importanza del centro eccellenza siciliana nel settore agrumicolo e cerealicolo. Dagli agrumi alla mostra pomologica con protagonisti gli studenti anche in lingua inglese e spagnola. Oggi per tutta la giornata di domani è possibile partecipare agli eventi in programma nei laboratori come nei campi di agrumi utilizzati dai ricercatori come piattaforme genomiche naturali utili agli studi sugli incroci e alla conservazione delle produzioni esistenti. Studenti di licei e istituti comprensivi in collaborazione con la sede locale dell'UNESCO per le prossime 48 ore coordineranno le singole iniziative in calendario. Per l'occasione sono state esposte gli antichi testi, preziosi testimonianze di studi condotti da ricercatori che hanno contribuito a sviluppare la moderna agrumicoltura mentre all'esterno un altro gruppo di alunni ha accompagnato i visitatori nel percorso previsto degli organizzatori del FAI con la supervisione degli esperti del CREA. Noi siamo ragazzi della quinta del liceo linguistico, oggi faremo da ciceroni per il FAI per spiegare la qualità degli agrumi e tutti i loro nomi. Senti, e il tuo compito qual è? Il mio compito è spiegare il Viale Carrante dove vi sono infatti tutti gli agrumi. Dalle filiere degli agrumi alle produzioni più ricercate e non mancano le curiosità. Intanto ovviamente farò una presentazione di come mi chiamo e da dove vengo e di quale scuola sono. E poi inizierò a spiegargli intanto nel generale il limone e poi tutte le varie specie che ci sono qui. Questa specie per esempio? Questa qua è la Lumia piriformis detta anche pera del commendatore, infatti ha la forma di una pera. È una pianta molto resistente con una chioma rotondeggiante, si può vedere meglio in quella lì pianta che è più grande. I frutti sono giallo-verdastri, hanno una polpa e un succo molto di qualità scarsa. Infatti sono usati solo come pianta ornamentale questi. Il Crea 10 Reale fondato nel 1866 si occupa di genetica, miglioramento genetico di tecniche di propagazione, conservazione, selezione e costituzione di nuove varietà di culture tipiche dell'ambiente mediterraneo, in particolare agrumi, olive, da tavola e cereali. È una giornata importante, abbiamo accolto con gioia questa iniziativa del FAI e questa proposta e ci siamo messi a disposizione, ci siamo spesi nei confronti del territorio accese. Ci sono altre notizie, termina qui questa edizione del telegiornale che potrete seguire su internet, sul nostro sito ma anche sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Adesso c'è il meteo e subito dopo vi lascio alla programmazione della rete, un nuovo appuntamento in diretta con il TG domani alle 14. Grazie per averci seguito sin qui e a voi tutti, buona serata. Quest'ultimo sabato di marzo si presenta con delle caratteristiche che riportano ai giorni precedenti, nuvolosità diffusa su tutta la Sicilia con possibili schiarite, i mari sono calmi, le temperature naturalmente primaverili 6 la minima, 16 la massima a Catania. Grazie per averci seguito.